musica dai pensavo ad aver finito e vi faccio un video extra allora allora claudio lucca rubini tu sei venuto a commentare e ti stupisce ti stupisce insomma ma io non mi sono inventato niente sai non mi sono inventato niente adesso faccio questo video extra allora c'è uno youtuber molto più famosissimo anche di pinocchio e non ha voglia di mettere raramente cito anche perché poi la maggior parte dei signori qua dentro cita altri con tanta visibilità per acquisirne a sua volta io preferisco non sottomettermi a queste regole sinceramente chi viene a vedere i miei video mi trova se gli piacciono continuo a vedere e se no continuino nella loro strada c'è un signore che da degli inferiori a tutti fondamentalmente a tutti e si e lo prende da dal barambani no quello lì che ha portato fantozzo e filini in barca che ha detto qua siamo tutti uguali siamo tutti uguali i miei cari inferiori e gli faceva fargli sguattere no pulire la barca eccetera eccetera no vabbè ma comunque questo signore qua che ho citato di youtube siccome è talmente pieno di sé da saperne più di tutti gli altri e da degli inferiori agli altri no ci può stare che ne sai più degli altri no anche io ogni tanto sono un po arrogantello no magari penso che ne so di più su certe cose degli altri però ah beh insomma non voglio far paragoni oggi ho visto un video di questo perché ogni tanto li vedo ancora no li vedo ancora che pagliaccio figlio che pagliacci che ci sono in questa piattaforma no ma il ragionamento il bello è che questo signore fa dei ragionamenti correttissimi no però poi è talmente arrogante talmente pieno di sé che dice eh ma io no perché qualcuno gli ha fatto un commento del cazzo no che lui è andato sotto a commento che ha fatto un altro video per commentare no per smerdare questo no e dice perché questo qua cos'è che gli ha detto gli ha detto non andresti mai con una Dacia Sandero al Casinone e lui ha voluto dirlo no ha voluto dirlo poi io se è vero non è vero no ma poi anche se è vero ma io a Monte Carlo sono stato al tavolo del principe Alberto cioè questo qui che è andato via è andato via dall'Italia per andare non dico dove sennò è troppo facile e ancora un milanesotto del cazzo di quegli sburoni lì che negli anni 90 andavano in giro col macchinone io negli anni 90 andavo in giro con la Citroen BX e la Fiat Croma e non me ne fotteva un cazzo di andare all'Olivo a Brera in questi posti pieni di gente di merda e se mai l'avessi fatto non sarei qua a vantarmi a vantarmi questo è uno che dà degli inferiori a tutti ma sapete qual è la cosa bella ragazzi sapete qual è la cosa bella questo signore guadagna da Youtube e lui la sua arroganza gli ha sfondato la vita almeno un paio di volte la sua vita che ha creato con pazienza eccetera la sua arroganza l'ha portato a... perché? e perché ho fatto già altri video no? ho fatto già altri video ma diversi mesi fa adesso ci sono un po' più di iscritti ma sicuramente non avranno la pazienza di guardare i video con magari dieci visualizzazioni ma ne ho fatti veramente qualcuno di carino veramente qualcuno di carino e non parlavo nominandolo no? eh però gliene ho dedicati diversi a questo signore qua no? perché quando tu pensi di essere così bravo fantastico che tutti gli altri sono inferiori ma sai che prima o poi c'è qualcuno che te la mette nel culo e lui nel culo l'ha preso due volte ma forte eh ma forte l'ha presa come che diceva un mio ex collaboratore tanti anni fa molle come un chiodo e storta come una candela e nonostante tutto alla quasi veneranda età di 50 anni quasi ancora continua figa ancora ancora non ha ancora capito la lezione non ha ancora capito la lezione fantastico 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 eh cosa vuoi fare? cosa vuoi fare? eh non ha letto Gurdjieff non ha letto Castaneda non ha letto dell'importanza personale che bisogna lottare contro di questo forse no? era troppo impegnato a studiare di macchine no? di automobili e non ti ho citato signor signor vatte la pesca non ti ho citato e poi comunque tu non mi potrai mai spianare non mi potrai mai spianare mai spianare al massimo spiani i miei video ma a me non mi spiani proprio né virtualmente né fisicamente stai tranquillo ma proprio non c'è nessuna speranza ciao Claudio Luca Claudio Luca mi sembra vabbè eh quello lì parla di inferiori cercalo è quello che parla più di inferiori nella piattaforma di Youtube è lui io non faccio nome ciao